Trasporti e infrastrutture, sanità, riforme istituzionali e patto di stabilità, sono questi i temi principali affrontati nella bassa bergamasca nel corso di un nuovo appuntamento di 100 tappe. La delegazione, composta dal Presidente Raffaele Cattaneo e dai consiglieri regionali del territorio, Roberto Anelli, Angelo Capelli, Maggio Barboni, Jacopo Scandella e Roberto Bruni, ai quali si è aggiunto l'assessore regionale all'infrastruttura Alessandro Sorte, ha incontrato presso la sala consigliare del Comune di Treviglio sindaci e amministratori comunali in rappresentanza di 17 comuni della bassa bergamasca. È stato apprezzato quello che la Regione ha già fatto, ma c'è bisogno di fare ancora di più. E poi due temi concreti, le infrastrutture e i trasporti, in particolare per quanto riguarda il livello dei servizi, questo è un territorio che ha visto importanti investimenti sulle infrastrutture, la Brebemi, il raddoppio della linea ferroviaria su tutti, ma che ha bisogno di migliori servizi, soprattutto sul fronte dei collegamenti per i pendolari. E poi il tema delle prospettive del sistema sociosanitario, alla luce della riforma di cui stiamo discutendo, il territorio rivendica la possibilità di continuare ad avere una sua identità anche dal punto di vista di questi servizi. La delegazione regionale ha visitato a Treviglio la fondazione Anni Sereni, che ospita e si prende cura delle persone anziane e la storica azienda Same, produttrice e leader mondiale di trattori e macchine agricole. Ha poi fatto visita all'Istituto Superiore Agroalimentare di Caravaggio, che ospita 130 studenti in tre distinti percorsi formativi legati all'agricoltura, alla trasformazione agroalimentare e alla chimica. Nel pomeriggio tappa a Santuasio di Caravaggio, alla centrale operativa di Brebemi e all'azienda Old Tub di Cividate al Piano. La giornata si è conclusa presso il municipio di Caravaggio, con un focus group che ha coinvolto cittadini e amministratori locali.